Wild Hair Parrucchieri, si prende cura dei capelli a 360 gradi. Wild Hair Parrucchieri, veri maestri di bellezza. Riunione a Catania del Coordinamento Nazionale Giustizia di Prossimità composto dai sindaci dei 30 comuni in cui sono stati soppressi a settembre 2013 i tribunali minori. Hanno partecipato anche alcuni parlamentari e i rappresentanti dei consigli degli ordini degli avvocati cancellati dalla riforma. Obiettivo è aprire un dialogo con il Governo per una revisione della geografia giudiziaria. Per Ariano Irpino presenti gli avvocati Giancarlo Di Gregorio e Marcello Luparella in rappresentanza della Fondazione Erminio Grasso ed il sindaco Domenico Gambacorta. È intervenuta anche Rosanna Reepo, l'ex sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi. Occorre approfittare della volontà espressa dal Governo Conte, affermato Gambacorta, a margine dell'incontro di una rivisitazione della geografia giudiziaria con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese. Ora è necessario sensibilizzare tutti i parlamentari affinché sollecitino con un disegno di legge l'attuazione del paragrafo 12 del contratto di governo siglato tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Il governo rispetti i patti, conclude il sindaco. Ricordiamo che il ministro della giustizia Alfonso Bonafede al Congresso Nazionale Forense aveva fatto un dietrofront, raggelando le speranze dei tribunali soppressi con le sue dichiarazioni rispetto alla cancellazione del contratto di governo proprio del paragrafo 12, parlando di aprire uffici di prossimità non meglio precisati, ma aveva anche detto che bisognava continuare a monitorare e segnalare le criticità. Dunque il coordinamento nazionale dei fori soppressi non si dà per vinto e prosegue la sua battaglia.